Buongiorno a tutti, amici, amici di Mr. Sport & Blogger. Questa è la faccia felicissima per i novi, per i possibili, quasi sicuri, rinnovi di Zizzo e Zlatan Ibrahimovic. La B è scongiurata, siamo salvi, siamo salvi dallo schifo di Ralf Radnick. Perché se veniva Ralf Radnick li perdavamo entrambi e andavamo in B. Ma sono stracontento che Gigio rinnova, probabilmente senza clausole, fino al 2023 che Zlatan Ibrahimovic rinnova Zio per riportarci in gym al campionato. Magari ci riesce e io lo bacio in bocca, lo vado a fare santo se Zio mi fa vincere un altro scudetto. Come ha sempre detto che se lui c'era dall'inizio e l'anno prossimo c'è dall'inizio vuole vincere lo scudetto e riportare in alto il Milan. Se fa una cosa del genere io lo bacio in bocca. Ma questo video oltre a constatare queste due meravigliose notizie c'è anche la possibile arrivo del giocatore Milenkovic della Fiorentina che è un buon difensore. Ma soprattutto è un'opinione sulla nuova maglia del Milan che è meravigliosa a mio avviso. Basta le maglie con le strisce sottili come quella di quest'anno che sinceramente non mi piaceva proprio e faceva schifo. A me una maglia di nostri quest'anno non piaceva per niente perché non c'era una linea nera grossa. Questa mi ricorda una maglia del Milan del 2000-2001 se non sbaglio che aveva le due strisce doppie perché io voglio le strisce che siano visibili, che siano anche un buon numero tra i quattro ma siano belle visibili, non sottili come la maglia che abbiamo fatto in questa stagione indegna che qui chiuderemo al sesto barra o quinto posto se c'è un miracolo. Ma la maglia nuova è bellissima così come quella bianca, così come quella azzurra e non vedo l'ora di vedere la maglia di Gigiodonna perché io sono portiere e guardo il mio ruolo e non vedo l'ora di vedere la maglia del portiere. Forse Gigiodonna la metterà per Milan Cagliari dove debutterà la nuova maglia ma non vedo l'ora di vedere la divisa del portiere dell'anno prossimo. Sono stra contento per i rinnovi di Zizzo e Donnarumma e Ibrahimovic che dovrebbero arrivare a breve e l'anno prossimo si può lottare per tornare in Champions e magari una pazza idea, visto che non ci caga nessuno, di lottare per lo scudo. Con questo vi saluto e ripetisco. Non è un desiderio lottare per lo scudo, è una pazza idea. Però chi vivrà, vivrà, perché se andiamo a questo ritmo con Stefano Pioli, col 4-2-3-1 e una buona squadra, si può fare, ma soprattutto quello che voglio per l'anno prossimo è fare, se ci arrivo, una buona Europa League. Non fare lo snifo di Simone Inzaghi in Europa League lo scorso anno. Se vi è piaciuto questo video iscrivetevi al canale di Mistero Sport e Blogger. Ciao a tutti.